Ho grande rispetto per il Movimento 5 Stelle, anche se sono molto distante da loro. Poi, certo, sentire dalla Raggi che le cose a Roma vanno benissimo e che continuerà a dare fastidio, ecco, io francamente spero di no. Mi auguro che questo fastidio che la Raggi dà al cittadino romano non duri molto, perché la Raggi è stata un pessimo sindaco. Così il deputato del PD, Andrea Romano, intervenendo ai microfoni dell'Italia Sedesta, su Radio Cusano Campus. Una buona prova di maturità del Movimento 5 Stelle sarebbe quella di proporre al prossimo giro un altro candidato sindaco, che non sia Virginia Raggi. Dovrebbero avere la maturità di prendere atto che è stato un sindaco pessimo. Non sarebbe la prima volta che un partito decidesse di cambiare cavallo. Lo abbiamo fatto anche noi del PD. Credo che anche nella prospettiva possibile alleanza Movimento 5 Stelle-PD, la prova di Roma sarebbe determinante. Non si può assolutamente immaginare che Roma venga governata per altri cinque anni da un sindaco catastrofico come Virginia Raggi, ha aggiunto Romano.